Da lunedì 27 febbraio a partire dalle 16, Fratelli d'Italia Gianfranco Fuschi e Fabiano Lomonaco organizzano un presidio permanente all'ex oratorio dei Salesiani in via Borremans per dire no alla nascita di un centro d'accoglienza per minori stranieri. Innanzitutto la raccolta firme è andata abbastanza bene? Sì, prosegue, sono state raccolte oltre 3.500 firme, contiamo entro fine settimana di arrivare alle 5.000 firme. Noi siamo sostanzialmente strumento delle associazioni, dei commercianti, dei residenti del quartiere di via Borremans che si oppongono giustamente a che l'unica struttura che è al servizio dei giovani, dei cittadini, di tanti che fanno sport, fanno teatro, fanno educazione. L'obiettivo è quello di farla diventare un centro di accoglienza straordinaria, cioè quindi tra l'altro addirittura significa questo senza numeri ben definiti e determinati, significa fare una polveriera nel pieno centro sostanzialmente a residenziare la Caltese. Da questo non è possibile, le associazioni vanno difese, le stiamo diventando tutte assieme, stiamo facendo una battaglia importante. Noi abbiamo deciso, assieme all'associazione e ai residenti, di presidiare esternamente la struttura, perché la settimana che viene sarà decisiva per le sorti dell'oratorio. Da voci che girano, pare che l'ASP abbia dato parere negativo rispetto alla struttura, però noi ci fidiamo poco di queste voci perché improvvisamente potremmo trovarci a cose fatte. Siccome la settimana prossima questa gara andrà a chiudersi sostanzialmente, noi condiamo da martedì iniziare un presidio H24 esterno con megafonaggio e comizi continui rispetto a questa cosa per sensibilitare tutta la città che è già molto sensibilizzata. e intorno a fine settimana portare in corteo, partendo proprio dall'oratorio Salesiani, sino in prefettura, tutte le firme che raccoglieremo. Chiederemo al prefetto di riceverci come cittadini e tutti coloro che ritengono che questa storia debba essere chiusa in maniera positiva per la città, per i ragazzi e per tutti quelli che amano questa struttura, sono invitati a dare la loro partecipazione per lunedì dalle 16 in poi.